Dal 25 al 27 maggio, lo spirito della cultura bergamasca con il grande concerto di Carlos Nunes dalla Galizia. Il 26 entrata gratuita e dal 31 maggio al 10 giugno, lo spirito del pianeta con indiani d'America aborigeni, rapanui scozzesi e tanti altri, tornano al polo fieristico di Chiuduno, Bergamo, uscita autostrada Grumello-Telgate della A4. Il festival internazionale che ospita gruppi tribali da tutto il mondo. Fiera dell'artigianato, ristoranti etnici e regionali, spettacoli garantiti al coperto, un labirinto medievale, ingresso libero. Per informazioni 347 57 63 417 www.lospiritodelpianeta.com